Consiglio regionale. La spallata alla maggioranza non è riuscita, ma le fibrillazioni innescate dalla mozione di sfiducia all'assessore Mazzuto, lanciata dal PD, avranno ripercussioni negli equilibri di Palazzo d'Aimmo. Bisognerà infatti capire la posizione delle consigliere della Lega, Romagnolo e Calenda, forse di fatto già ex del Carroccio, che insieme alle opposizioni avevano votato sì all'iscrizione di quella mozione nell'ordine del giorno dei lavori consigliari. Il risultato di parità, 10 voti favorevoli e altrettanti contrari, con il voto decisivo del presidente Toma, ha intanto evitato che il delicato punto fosse portato all'attenzione del Consiglio. Rimane, come detto, la tensione politica innescata dalle citate consigliere di maggioranza, che hanno chiesto la testa dell'assessore e coordinatore del loro stesso partito. Inadeguate risposte sulle questioni di cui è stato investito da titolare della delega al lavoro e la posizione a favore del regionalismo differenziato, le motivazioni alla base della richiesta di sfiducia archiviata sul nascere. Oggi è venuta a mancare la democrazia, perché noi avevamo chiesto la sfiducia all'assessore Mazzuto, non perché assessore esterno della Lega, che pure questo va bene e discutibile, ma perché inadeguato al ruolo che ricopre. Lui, in più di una circostanza, lavoratori ex-CTR, lavoratori ex-zuccherificio e quant'altro, ha dimostrato di non trovare soluzioni. Quindi, a mio avviso, Luigi Mazzuto deve andare a casa per Filomena Calenda e per la collega Romagnolo. Io continuerò sempre, come ho fatto dal primo giorno della mia elezione, a fare la mia attività in difesa del territorio e dei cittadini, con o senza la Lega. Poi Matteo Salvini, naturalmente, potrà prendere le sue decisioni. La questione andava risolta all'interno della Lega, evitando di coinvolgere il Consiglio, l'affondo di Toma indirizzato alle due dissidenti e, a stretto giro, la difesa del suo assessore. Le questioni di partito sono questioni che vanno discusse in partito e non vanno portate in Consiglio, perché aprono ad una serie di strumentalizzazioni da parte delle minoranze. Comprendo anche il tentativo di strumentalizzare la situazione da parte delle minoranze e, per questo, ho chiesto a Menna Calenda, con la quale ho un ottimo rapporto per la verità, e a Romagnoli, con la quale ho un buon rapporto, di evitare di portare in Consiglio simili emozioni, ma di parlarne in maggioranza, se c'è disagio, come sembra che ci sia. Ma questo è un discorso che non si fa in Consiglio. La GAM c'è la soluzione ed è la cassa integrazione, abbiamo avuto anche un'apertura da parte del Governo. Per l'ex zuccherificio abbiamo un contratto L, gli ex lavori socialmente utili, lavori pubblica utilità. Abbiamo risolto anche l'inghippo che c'era, era un blocco burocratico. Per quanto riguarda l'ex ITR c'è un problema a livello di legge di bilancio, perché la platea è ampia, speriamo di risolvere anche questo problema. Quindi non vedo l'inadeguatezza dell'assessore, non la giudico tale e quindi rimane in giunta.